24esimo turno nel Gironeffe di Serie D. Al di Tella, il Vasto Girardi ospiterà la quinta forza del raggruppamento, il Porto d'Ascoli. Una gara che giallo-blu dovranno e proveranno a vincere per scacciare il periodo buio che accompagna ormai la squadra da diverso tempo. Impelagato nella zona medio-bassa della classifica, il Vasto Girardi manca al successo da poco più di un mese, quando a Notaresco la compagine di Mister Coletti si impose per tre reti a zero. Da quella domenica poi tre sconfitte ed un rinvio, lasciando i Molisani a secco di punti fondamentali in ottica salvezza e sempre ad un passo dalla zona play-out. Quello di domani sarà il primo di tre incontri ravvicinati. Mercoledì prossimo si giocherà infatti il recupero contro il Tolentino, sempre con il favore del campo. Domenica prossima poi si viaggerà alla volta del vicino Lazio, ospiti del Roma City. Tre sfide, seppur diverse tra loro, molto delicate e da non fallire. Domani il giovane tecnico alto molisano dovrà fare i conti con due assenze importanti. Non saranno infatti della contesa i due attaccanti Coris e Macni, il primo alle prese con un infortunio, il secondo espulso domenica scorsa negli ultimi minuti di gioco nella gara contro il Trastevere. Un attacco dunque tutto da ridisegnare. A questo punto il tridente offensivo potrebbe essere composto da Hernandez, Lorusso e Jacullo. Per il resto non dovrebbe cambiare molto con l'attento Petriccione in difesa dei pali. Difesa a quattro composta da Canale, Solimeno, Modesti e Capitano Ruggeri. Al centro del campo a completare l'undici, Grandis, Fiori e Bentos. Di fronte a una squadra, l'Ascoli, che è tornata al successo domenica scorsa, superando con un netto 2-0 l'FC Matese, chiudendo così la serie negativa dell'ultimo mese in cui aveva totalizzato tre sconfitte ed un pareggio. Posto nei play-off che la formazione marchigiana non ha alcuna intenzione di abbandonare e che si terrà stretto anche e soprattutto nella sfida in programma domani. Con fischio d'inizio alle 14.30 al di Tella, Vasto Girardi Porto d'Ascoli sarà diretta da Mattia Maresca di Napoli, assistito da Alessandro Ceci di Frosinone e Marco Bosco di Roma 2.